L'erosione costiera avanza anche in Molise e perlomeno limitarla è l'obiettivo dei lavori in corso, finanziati con 2 milioni di euro dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2019 nell'ambito della programmazione del piano operativo ambiente. L'installazione di nuove scogliere e il riposizionamento di quelle esistenti. In base alle condizioni del mare, mezzi al lavoro in questi giorni sul lungomare sud di Termoli, ma il progetto di messa in sicurezza interessa una parte consistente della fascia costiera anche di Monte Nero e Campomarino. Interventi necessari per risolvere le situazioni di maggior rischio per la pubblica e privata incolumità, nonché per la salvaguardia dell'ambiente marino. Un primo passo importante aveva detto a novembre, prima della consegna dei lavori, il governatore Francesco Roberti, che anche da sindaco insieme all'allora assessore regionale Vincenzo Niro aveva incontrato i residenti di Rio Vivo. Attenzione rimasta alta anche con l'assessore Michele Marone, che ritiene questi interventi fondamentali contro l'erosione. La struttura della regione nei prossimi giorni chiederà una proroga alla Capitaneria di Porto per completare i lavori a maggio. A luglio scorso Lega Ambiente aveva evidenziato come circa il 32%, 10 km, della costa molisana a 32 km, presenta fenomeni di erosione importanti e allarmanti, dati che riguardano il consumo di suolo con il quarto valore in Italia per incremento nelle aree costiere.